Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Oggi andremo a parlare di decoder, quindi decodificatori in ambito di elettronica digitale. Andremo a vedere che cosa sono, i compiti che hanno e perché sono importanti. Come abbiamo visto del codificatore, i decoder sono l'esatto contrario e entrambi sono estremamente utili, soprattutto per quanto riguarda l'acquisizione e la trasmissione dei dati, perché vengono comunque codificati per poter essere manipolati ed altro, trasmessi e poi ridecodificati per essere di nuovo, per mandare in uscita quello che è stato trasmesso, quindi comunque hanno un'importanza fondamentale. Allora, per quanto riguarda il decodificatore, il suo compito è quello di rilevare sui propri ingressi e la presenza di una particolare combinazione di bit, attivando conseguentemente l'uscita corrispondente. In questo caso, che abbiamo nell'immagine, abbiamo un decoder da 2 a 4. Ovviamente avremo sempre i due ingressi, 2 alla 2, quindi avremo 4 possibili uscite. A seconda di quello che è la combinazione degli ingressi binaria, quindi 0, 0, mi attiverà l'uscita 0, la di 0, 0, 1 mi attiverà l'uscita 1, 1, 0 l'uscita 2 e 1, 1 l'uscita 3. Quindi mi darà appunto in uscita l'attivazione di quello che è stato messo in ingresso come codice binario fondamentalmente. Qui abbiamo appunto a destra la tavola di verità, questo è semplicemente un esempio molto basico. Andiamo a vederne invece uno un po' più fondamentale, nel senso un po' più strutturato intanto, che è il BCD decimale, che è il 7442, che esiste sia in logica TTL che in logica CMOS. E di entrambe poi andremo a vedere le peculiarità. Allora, intanto, come sono costruiti dentro? All'interno, come vedete, hanno questi 8 inverter e 10 port in end a 4 ingressi. Allora, questa configurazione fa in modo che, come vedete, gli ingressi sono collegati a coppie per rendere disponibili i dati di ingresso BCD per la decodifica da parte delle porte NAND. La decodifica completa della logica d'ingresso garantisce che tutte le uscite rimangano disattivate per tutte le condizioni di ingresso non valide. Volendo fare, appunto, un BCD e quindi vogliamo rappresentare comunque i numeri decimali, vogliamo escludere quelle che sono le cifre da 10 a 15. Sappiamo che, invece, con il discorso di avere 4 ingressi, io posso rappresentare 2 alla 4, quindi da 0 a 15, 16 uscite, 16 configurazioni di uscite. Volendo escludere questa rappresentazione con le porte in questo modo all'interno, mi permette, appunto, di invalidare quelli che sono, come vedete dalla tabella di verità, spero si possa vedere, ve la posso ingrandire ancora un po', di invalidare quelle che sono le combinazioni che mi danno da 10 a 15, che sono tutte queste. Quindi, qua abbiamo sempre lo schema con i nostri 4 pin di input, poi, vabbè, alimentazione e ground e le uscite che abbiamo, ne abbiamo 7 qua sotto e le altre 3 qua sopra, quindi da 0 a 9. In questo modo, appunto, possiamo garantire che, a livello di codici, abbiamo, ad esempio, quando abbiamo la configurazione, abbiamo il numero 3, quindi la configurazione LLHH, in uscita abbiamo, appunto, attivo l'uscita 3, che corrisponde al 3. Quello che c'è da notare è che abbiamo, mentre gli ingressi sono in logica positiva, quindi sono attivi alti, come abbiamo potuto vedere, 1, 1, quindi 0, 0, 1, 1 sarebbe, ed è proprio il 3, invece le uscite sono attive basse, quindi nel caso dell'attivazione è dove abbiamo la lettera L, e quindi qua troviamo ingressi attivi alti e uscite attive basse, quindi l'unica accortezza da avere con questo integrato, ma vengono visualizzate, appunto, con i pallini delle, questi sono proprio i fogli del datasheet. Per quanto riguarda, invece, i 7442 in logica CMOS, sono dispositivi CMOS con gate al silicio ad alta velocità e sono compatibili con la TTL SHOTI a bassa potenza, vabbè, questi sono dei dettagli un po' più significativi, allora, anche questi accettano 4 ingressi BCD attivi alti e forniscono 10 uscite attive basse, che si escludono a vicenda, quindi anche queste hanno una sorta di priorità. quindi nel caso, appunto, ne venga attivata una, non influisce nell'errore di quello che può imputare l'altra uscita, quindi vedete che non ci sono mai due uscite attive contemporaneamente, ce n'è sempre una per volta. Le uscite attive basse facilitano l'indirizzamento di altri circuiti e va bene, poi quello che è importante è appunto che il discorso che vengono disabilitate, quelle che sono i codici binari superiori a 9, che non diano appunto le altre combinazioni di uscite. questo tipo di integrato può lavorare a qualche... qua lo vedete, meglio, qui la tavola di verità, perché ci stiamo riferendo al CMOS, questo ha delle ulteriori... allora, l'ingresso più significativo, la 3, produce un'utile funzione di inibizione quando il 42 viene utilizzato come decodificatore 1 su 8, quindi può anche essere utilizzato, viene utilizzato come decoder 1 su 8, o può essere anche utilizzato come ingresso dati se viene utilizzato come demultiplexer a 8 uscite, quindi è un decoder demultiplexer. e la maggior parte degli integrati hanno questa doppia funzione, visto che più o meno a tecnologia simile mi basta fare qualche piccola cortezza, aggiungere la funzionalità magari di un piedino o di altro e mi ritrovo a poterlo far lavorare sia in un modo che nell'altro. Quindi, allora, come vedete, il discorso degli ingressi allora, qui abbiamo gli ingressi allora, tutti gli ingressi a 0 e quindi abbiamo attivo l'ingresso 0 poi abbiamo attivato la 0 e quindi ho l'1 poi ho attivato a 1 quindi avremo praticamente allora, qua i 4 0 qua 0, 0, 0, 1 e quindi attivo 1 0, 0, 1, 0 e quindi attivo 2 0, 0, 1, 1 e attivo 3 e così via vedete che a scalare fino ad arrivare qua dove abbiamo 4 quindi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 che è l'ultimo rappresentabile dopo di che gli altri quindi avrei dal 9, il 10, l'11 vedete che danno tutte le uscite alte quindi mi va praticamente a porre tutte le uscite alte quindi non rendere attivi gli ingressi dal 10 al 15 quindi niente di particolare era solo un piccolo video per dire un pochino come lavorano i decoder li ritroveremo appunto nei sistemi di acquisizione dati giusto per sapere che hanno una funzionalità esattamente contraria ai codificatori quindi se da una parte io vado a prendere degli ingressi codificarli farci qualche cosa dopodiché li prendo li ridecodifico e ho se in mezzo non c'è nulla tanti me ne entrano quanto li vado a codificare ridecodificare e mi ritrovo gli stessi se invece in qualche modo abbiamo manipolato trasmesso ed altro posso ritornare a ricavare i miei i miei ingressi precedenti precedentemente codificati quindi semplicemente entrando in gioco poi in sistemi di questo tipo bene spero di essere stata chiara che vi possa essere d'aiuto non c'è molto da dire se non farvi vedere appunto tabelle di verità come sono gli integrati come sono all'interno e più o meno un cenno di quello che di come lavorano andremo poi a vedere degli esercizi su come poterli utilizzare in modo un pochino più pratico o comunque applicati a problemi circuiti di logica e anche appunto trasmissione di segnale acquisizione e trasmissione di segnale bene fatemi sapere se è tutto chiaro nei commenti ci vediamo alla prossima lezione e al prossimo video ciao 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 ciao